Ed eccoci qua, time's up! Sto facendo questo gesto non a caso perché? Perché la puntata di oggi è dedicata alle freccette, le darts! Eh sì, questo canale si sta appassionando alle darts in maniera incredibile, vuole scoprire storia e non vuole saperne altro mollerà il calcio? Forse no, mollerà altri sport? No, non se ne parla proprio, però inserirà le freccette nel proprio carnet perché veramente mi stanno appassionando tantissimo e non stanno appassionando soltanto me basta vedere l'hashtag con cui Dazzon racconta le freccette in questi giorni, Dazzon180, Trendy Topi su Twitter, Trendy Topi su Instagram come mai? Come mai l'Italia, o quantomeno uno spicchio sportivo d'Italia, si sta appassionando alle freccette? Secondo me ci sono due fattori. Intanto contesto. In questi giorni, come ogni anno tra la fine dell'anno vecchio e l'inizio dell'anno nuovo c'è il World Darts Championship, cioè c'è il mondiale. Si gioca all'Alexandra Palace, l'Hally Palace di Londra in un Ali Palace strapieno, ma ci arriviamo, e le freccette si sono inserite in questo buco che c'era tra la fine del mondiale in Qatar e la ripresa del campionato di calcio. E quindi l'appassionato di sport, la persona che ama lo sport, ha bisogno di qualcosa. C'è la solita NBA che non si ferma mai, figuriamoci, c'è la fine della regular season di NFL e poi niente. E quindi magari non si fa prendere troppo da questo, ha bisogno di qualcos'altro. E le freccette hanno offerto un palcoscenico diverso, un palcoscenico interessante e qui secondo me va fatto un grandissimo applauso alla squadra di Dazzon che commenta il mondiale, che commenta le freccette, perché secondo me è l'altro grande fattore. Quindi io farei un grande applauso, almeno metaforico, a Giorgio Basile, Dario Mastroianni e Giordano Reale al commento tecnico. In questi giorni hanno avuto anche l'incursione simpatica di Tommaso Augello, il calciatore della Sampdoria, appassionato per la sua stessa dichiarazione di freccette, quindi è stato chiamato da Dazzon a commentare. Loro tre secondo me sono, vavi perché sanno del gioco, due interagiscono tantissimo con i social, seguono Twitter, seguono Instagram, in o in diretta e quindi salutano, rispondono alle domande, commentano le foto che arrivano, hanno questo rapporto molto vivo col pubblico e questo sicuramente è un grande vantaggio. Terzo, entrano nell'atmosfera, la vivono non solo, solo commento tecnico, perché le freccette sono fatte anche dall'atmosfera. Se voi vedete l'Ali Palace di Londra in questi giorni e vedete le aree delle freccette negli altri major, negli altri grandi tornei, voi vedete un pubblico favoloso. Io non ho altre parole per definirlo. Un pubblico che beve, bisogna dirlo, beve, quindi all'adrenalina delle birre, canta, esulta, fa casino, fa anche del tifo contro, ci arriviamo perché è una delle grandi storie di questo mondiale, ma vive l'atmosfera, se la sente, patteggia per il gioco e poi magari partono ancora da una parte e partono tutti e allora, poi hanno questa cosa, hanno i cartelli e qui di cui i cartelli possono scrivere, ma scrivere anche durante le partite e quindi magari possono mettersi lì, allora magari se c'è un giocatore che gioca bene e cominciano ad appassionarsi per quel giocatore, veramente, c'è quel clima lì, anzi, tra l'altro parlare di giocatore è improprio, perché le freccette hanno quest'alto grandissimo vantaggio, non ha età, non ha genere e quindi uomini, donne, basta tirare le frecce e fare più punti di chi ti sta sfidare in quel momento e questo secondo me è un'altra grande notte che può avvicinare tantissime persone, veramente, è uno sport trasversale, basta pochissimo per farlo e se lo fai in un bar secondo me, c'è anche quella atmosfera che negli altri paesi regala tantissimo, infatti adesso è giusto tenere tutti questi fili insieme raccontando cosa sta succedendo nel mondiale, un mondiale in cui abbiamo visto uscire al terzo turno Peter Wright, snakebite, personaggio scozzese, guardatelo, incredibile, veramente, favoloso, il numero 2 del mondo, ai quarti è uscito Garvin Price, il numero 1 del mondo, ma agli ottavi erano usciti Rob Cross, eliminato dal numero 22 Chris Dobby e Luke Humphries eliminato dal numero 21 Steven Bunting, Bunting è una secondo me delle grandi storie, Bunting nel turno prima ha eliminato un altro inglese, Cisnal ed è uscito ai quarti da Michael Smith, altro inglese, numero 4 del mondo, ma Cisnal, Bunting e Smith non sono soltanto inglesi, vengono dallo stesso posto, non proprio, cioè non dalla stessa zona inglese, proprio dalla stessa città, St. Helens, 100.000 abitanti, Mercy, zona di Liverpool, e avere tre giocatori tra i primi 25 e 30 del mondo, della stessa città, capita nelle freccette e basta, questa cosa meravigliosa, ma abbiamo detto tifo contro, il tifo contro chi coinvolge? Coinvolge Garvin Price, gallese, extallonatore fisicamente e somaticamente si vede, e poi parliamoci chiaro, inglese, se non finisce a diventare un regbista, cioè, o si gioca a rugby, o sei regbista che ha mancato dei pezzi, o ha preso al testa da un certo punto, quindi Price è uno, Giggs ovviamente, anche lui ha cominciato con la pallovale, ma questo è il normale storia gallese, Nervyn Price quindi anche fisicamente così, se avesse giocato non l'avrei visto bene con Joe Marler, se l'azione o rifidiva malissimo, però questa è la mia opinione, è la classica persona di grande spessore dal punto di vista del gioco, è ben conscio di esserlo, e quindi un po' di presunzione, la presunzione è la personalità di chi è forte, di chi sa di esserlo, e te lo fa notare, pesare no, pesare è troppo, secondo me non è giusto dirlo, te lo fa notare, te lo fa sentire, e quindi Gervin Price gioca anche così, gioca anche con questo stimolo nervoso, solo che nel quarto di finale, contro Clemens, contro il tedesco Clemens, qualcosa non ha funzionato, il pubblico cominciava a beccarlo, il pubblico ti fava per il tedesco, fischia Price, e la partita stava prendendo una brutta piega, allora chi gioca può farlo, usa magari i tappi delle orecchie, perché poi il frassuono diventa molto molto forte, e in un gioco dove serve grandissima concentrazione, soprattutto nel momento in cui ce la mette le doppie e chiudere le partite, magari il frassuono del pubblico può disturbare, soprattutto se è quello di Price, e allora il tappo nell'orecchie ci sta, è regolamento, Price ha voluto andare oltre, non tanto regolamente perché può farlo, quanto nel modo, ha mezzo delle cuffie enormi, stile Paolo Antoni, ho vinto qualche cosa, ho vinto qualche cosa, Price non ha vinto, spoiler, però attenzione, mettere quelle cuffie così grandi, in quella situazione lì, e mettere subito un 180, che è il massimo che si può fare nel lancio delle tre freccette, ha scatenato il pubblico, che ha cominciato a fischiarlo, beccarlo, insomma, si è creata un'adrenalina, e alla fine quando ha vinto quel leg, ha vinto quel momento del gioco, Price è andato così, cioè, alla Marco del Vecchio, non sto scherzando, con le cuffie alla Marco del Vecchio, cioè, siamo a questo livello qua, e voi capite che si è scatenato il delirio alla Lee Palace, alla fine Clemens ha vinto, Clemens è il numero 25 del mondo, grande sorpresa, non era mai arrivato così in alto, non era mai arrivato a una semifinale mondiale, i commentatori della zona hanno raccontato una cosa, hanno detto che in Germania c'è un grandissimo pubblico, grande passione attorno alle freccette, mancava il grande nome che attirasse il movimento, qui, aneddoto personale, mi permetto, io da grande amante di Berlino, frequento anche le Kneipe, che sono questi bar tipici, che in alcune zone della città non ci sono per tutta una serie dinamiche di gentrification, in altre zone città invece sono ancora presenti molto vivi luoghi centrali della vita sociale berlinese, e se voi andate alle Kneipe, è certezza assoluta, che le Darts le trovate, il tabellone delle freccette lo trovate e potete giocare persone, trovare a giocare persone di ogni età e di ogni genere, veramente con grande passione. Ultima nota, prima di dare la morale di questa storia, gli arbitri, ci sono tre arbitri, due segnano i punti di chi sta giocando in quel momento, a mano, cosa fantastica, e poi c'è il terzo arbitro che dà i punteggi, dà i punteggi di ogni giro, può darli così dicendo semplicemente 100, 120, così, adesso lo sto dando in italiano per rendere l'idea, e poi c'è Raspberry, The Voice, parte il modo in cui dice 180 è incredibile, è meraviglioso, fa concorrenza a Sandro Ciotti, non sto scherzando, fa concorrenza a Sandro Ciotti, ha una voce tipica, tutta sua, infatti è ribattezzato The Voice, ma Raspberry non dà soltanto questo, a volte addirittura discute con i giocatori, cioè, avere un arbitro che discute con i giocatori, tra l'altro lui è pelato, quindi veramente un collina delle freccette, userei questo paragone, ma veramente personaggio incredibile, e si trova anche questo, la morale è questa, le freccette sono un gioco che veramente può coinvolgere chiunque, è un gioco che ha attorno a sé un mondo di personaggi pazzeschi, a parte quelli che abbiamo raccontato che sono usciti, ma prendiamo anche il favorito in questo momento, Michael van Gerben, olandese, cioè, guardatelo, sembra, è increspiritato, cioè, non lo so, è anche difficile da descrivere, veramente personaggio particolarissimo, si trovano queste figure qua, c'è un pubblico che è veramente attivo, coinvolgente, si diverte, ecco questa cosa qui, è un mondo divertente dove tutte le persone che ci sono dentro se lo vivono con grande passione, ed è questo il motivo per cui può funzionare, può crescere, e in Italia si può creare, veramente, quella nicchia di passione, e può essere anche una lezione per gli altri sport minori, veramente, creare quell'atmosfera lì, raccontare quell'atmosfera lì, renderla bene, perché quell'atmosfera lì poi porta il nostro paese, tante e troppe volte calciocentrico, a uscire da quei binari e raccontare allo sport, a 360 gradi, Time's Up si chiude qua, io vi ringrazio e ci vediamo prestissimo.